amici e amiche di radio speranza in blu la radio della chiesa diocesana di pescarapenne benvenuti a questa nuova puntata sempre dalla parte dei cittadini la rubrica cura della chiesa abruzzo molise e oggi salutiamo un gradito ritorno qui nei nostri studi marcella carletti della fisascate chiesa abruzzo molise ciao marcella come stai marcella bene grazie ecco abbiamo voluto abbiamo pensato a questa puntata perché insomma ci sta c'è un tema che ci sta particolarmente a cuore che è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro ma in particolare della condizione delle donne nei luoghi di lavoro siamo partiti da alcune considerazioni che riguardano il caso di lara loghi la pallavolista del pordenone che praticamente era stata esclusa dalla squadra semplicemente perché incinta e poi è stata riammessa perché c'è stato un grande movimento di intellettuali politici intervenuta anche la presidente del senato maria elisabetta alberti casellati mi ricordo che è lungo e alla fine c'è stata questa questa riammissione però marcella non può essere sempre una riammissione per le donne infatti diciamo che la parte triste è questa prima si provvede a mettere in evidenza la l'indonità di un ruolo o piuttosto che di una presenza di una figura dopodiché ti faccio la cortesia per salvaguardare un po la faccia oppure per per far vedere che di fronte all'opinione pubblica qualcosa recupero della re integra io credo che bisognerebbe fare fare un passo oltre oltre quello che quello che può essere una re integra piuttosto che un venirsi incontro non è una trattativa è semplicemente una questione di rispetto di rispetto delle parti di rispetto dei ruoli nessuno pretende l'uguaglianza è evidente che uomini e donne siano diversi hanno una una diversa prestanza fisica una diversa altezza peso sono indifferenti sotto qualsiasi punto di vista un'emotività una fragilità una una ci sono queste differenze per cui non si tratta di essere uguali ma di dare adeguate opportunità affinché tutti e due possano emergere a modo loro se se davanti a me c'è una staccionata è evidente che il bisogno di un supporto per guardare oltre la staccionata deve essere diverso se se la persona è alta un metro e ottanta piuttosto che un metro e sessanta no se mi date uno sgabellino da 20 centimetri una persona alta un metro e ottanta guarderà oltre la staccionata una persona di un metro e sessanta potrebbe non essere sufficiente cioè c'è solo cose che la persona di un metro e ottanta non può fare lo dico per esperienza esatto esattamente lo sospettavo sì perché nei luoghi dove bisogna stare curvi chinati io personalmente faccio un po fatica essendo essendo molto alto no parte le battute però dobbiamo dire che intanto che l'ara ha avuto un grandissimo coraggio perché ha denunciato un fenomeno che è molto comune e purtroppo non solo nel mondo sportivo sappiamo di quanto sia diffusa la pratica delle dimissioni in bianco quella pratica cioè per cui quando viene assunto una donna sotto al contratto spesso e volentieri si trova un altro foglio dove la donna si impegna in caso di gravidanza ad andare via ed è una cosa veramente tristissima insomma anche perché è impensabile insomma che non ci siano più gravidanze o maternità perché significerebbe che a breve a stretto giro ci estingueremmo insomma sarebbe anche abbastanza banale io ne ragionavo una volta con con un imprenditore del commercio no dove lui mi paventava questa difficoltà comunque a supportare le maternità da un punto di vista economico e tutte queste cose qui ho detto il giorno in cui le donne non 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 potranno più avere la grazia perché comunque sia è una grazia quella della maternità non venderei più nulla perché il reparto pannolini e tutto quello che riguarda l'infanzia lo potrei chiudere ma anche tutto il resto perché a stretto giro non avremo più nessuno che rigenera un po una una nazione no quando diciamo lo svecchiamento della popolazione italiana passa attraverso tante maternità altrimenti non non è possibile non si può pensare ad un mondo del lavoro che non contempli ciò che è un passaggio fisiologico normale cioè non è un evento la maternità la maternità deve essere considerata parte della vita non è qualcosa che al di fuori della persona è qualcosa che parte integrante della persona per questo deve essere accolta e vista piuttosto come come una risorsa ed una possibilità semmai e si e poi tra l'altro forse la strada giusta anche per tutelare meglio la maternità passa anche attraverso la paternità cioè assolutamente responsabilizzare questi padri assoluta assolutamente sì assolutamente sì cioè anche dando più tempo ai padri per stare con i bimbi in modo tale che le mamme possano invece certo ma 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 ci sono cioè la l'astenzione il congedo parentale è aperto anche ai padri per cui questa è una possibilità che già esiste all'interno dei contratti il problema è che anche culturalmente io non vedo molti congedi parentali rivolti al papà che resta a casa con i bambini mentre le mamme si recano nel luogo di lavoro questo ecco e diciamo che è un passaggio culturale che andrebbe fatto ma si comincia da presto si comincia da giovani io confido confido tanto nelle generazioni future in tal senso e mi auguro che in tutti i luoghi in cui c'è la pratica dell'educazione dai luoghi dello sport dall'interno delle famiglie piuttosto che non lo so in parrocchia insomma ci sia un aumento delle possibilità di crescita da un punto di vista della cultura della maternità ma soprattutto della della paternità ecco è un altro sempre appunto tornando al tema sportivo un altro caso di cronaca che è successo proprio in queste ore ai noi ha riguardato la nazionale cantanti ma non i cantanti diciamolo subito purtroppo c'è stato questo episodio abbastanza discutibile per essere gentili di questa ricercatrice insomma che è stata esclusa dalla squadra aurora leone che fa una donna è stata è stata richiamata dal presidente della nazionale cantante quindi non uno dei cantanti dicendole che era seduto nel tavolo sbagliato perché era seduta nel tavolo dei dei calciatori no dei partecipanti lei pensava che fosse semplicemente seduta nel tavolo sbagliato perché lei era nel tavolo dei cantanti invece doveva essere al tavolo dei ricercatori e quando il suo compagno di squadra si stava alzando insieme a lei è stato fatto notare che non era sbagliato il posto in cui era seduto perché era la squadra ma che era in quanto donna la sua figura non poteva essere quella di di giocatrice per quanto fosse stata convocata per quanto le avessero dato un completino e l'hanno invitata ad indossare il completino in tribuna perché forse era un luogo più adatto a lei io io poi c'è stata ci sono state le scuse da parte dei rappresentanti dei cantanti che ovviamente si sono sentiti anche anche insomma mal rappresentati nel senso che non era quello il loro pensiero per cui hanno ci hanno tenuto a manifestare quello che era il loro pensiero e cioè che assolutamente questa era 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 qualcosa di che non poteva esistere soprattutto in una manifestazione volta al bene ancora di più pensieri di questo genere non possono esserci e questi sono tutti sono singoli casi singoli eventi che però vengono considerati sempre con estrema leggerezza la leggerezza che c'è intorno alla considerazione della donna come qualcosa e lasciatemi passare il termine perché purtroppo la donna considerata cosa è ai noi un un'idea ancora presente all'interno della nostra della nostra società è un qualcosa che a piccoli bocconi c'è ogni giorno e piccoli bocconi poi fanno qualcosa di grande e quindi si trasforma poi in grandi eventi mi viene da pensare a quello che accade nei luoghi di lavoro dove infortuni luoghi diciamo così di lavoro molto anche semplice no come il settore del tessile dove comunque non ci sono sono piccole aziende di pochi lavoratori poco tutelate non rappresentate perché essendoci poche persone non sono sindacalizzate quindi non c'è diciamo la tutela del lavoratore l'informazione al lavoratore né dal punto di vista dei contratti né dal punto di vista della sicurezza per cui si lasciano passare tante cose se non a ricordarsene poi quando salta alla cronaca un fatto eclatante ecco un lutto grave di una ragazza che tra l'altro lascia un bambino di tre anni che poteva essere evitato queste questi episodi che abbiamo raccontato della giocatrice e della ragazza di aurora leone che però raccontati così sembrano qualcosa di microscopico ma dietro c'è invece qualcosa di macroscopico che cioè è un retaggio culturale ancora vivo ancora vivo è molto pericoloso a mio avviso perché considerare la donna come qualcuno che non è adatta a stare seduta ad un tavolo a rappresentare dei calciatori oggi sono i calciatori domani sarà qualcosa di più grande considerare la donna un oggetto l'oggetto si può anche rompere perché tanto se si rompe si ricompra siamo persone rompere una persona significa a volte provocare delle 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 situazioni delittuose e questo è qualcosa che esiste e che è collegato a tutto il resto non si deve pensare che sono cose scollegate non si può come dire al come dire assoggettare tutto al soldo e alla produzione e basta bisogna ricordarsi che nella vita esistono altre cose come per esempio il dono di un figlio che per una donna ma anche per un uomo penso che sia qualcosa di inestimabile assolutamente sì non solo per quella singola famiglia ma un figlio bisogna capire questo con figlio un dono per tutta la società compreso l'imprenditore imprenditore famoso che sennò non avrebbe più clienti perché prima o poi si sauriscono voglio dire la vita farà il soccorso e lui si ritroverà senza nessuno che andrà ad acquistare nel suo punto vendita sicuramente sembra triste ma poi alla fine è questo è così è così e dobbiamo dire che appunto esistono esiste tutta una serie di normative anche molto particolareggiate che riguardano proprio la sicurezza sui luoghi di lavoro anche per le donne durante la gravidanza il problema però è poi il culturale anche lì è vero assolutamente la donna è allora in italia abbiamo abbiamo delle leggi straordinarie le più avanzate al mondo non possiamo dire di non avere un un diciamo così un pacchetto di norme che non siano che non sostengano la donna in gravidanza e che non sostengano la sicurezza nei nei luoghi di lavoro assolutamente no e il problema è poi rendere attuative queste norme queste leggi avere la volontà di praticarle avere la volontà ma la volontà di mettere in in moto un sistema in supporto in sostegno e un supporto un un sistema di monitoraggio e controllo poi perché fare qualcosa ma poi non provvedere ad un monitoraggio ecco mi viene da pensare all'evento che c'è stato della povera ragazza che purtroppo è deceduta in una industria tessile piccola a conduzione familiare davanti a ad un ornitoio no quel macchinario era dotato di tutte quante le strumentazioni necessarie a che quell'evento non accadesse ci sono delle cellule foto elettriche che avrebbero dovuto provvedere a bloccare la macchina in movimento qualora qualcuno si avvicinasse troppo al punto in cui sono collocati gli ingranaggi c'era un sistema di trans di transennamento davanti alla macchina che doveva essere manomesso per poter accedere poi alle parti pericolose del macchinario tutte attrezzature che sono state tolte c'è un sistema che serve a monitorare la velocità il numero di giri dell'ornitoio che è stato manomesso cioè laddove le norme e le attrezzature vengono adeguate affinché tale eventi non accadono subentra la mano dell'uomo che per scopi meramente produttivi cioè per incrementare la produttività oraria di quell'attrezzo purtroppo una ragazza ci ha rimesso la vita e dietro a lei una famiglia distrutta e un bambino che avrà un futuro sicuramente molto 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 difficile per non parlare della devastazione da un punto di vista del emotivo interiore di un bambino che dovrà crescere senza una madre sono queste tutte quelle cose che si che vengono trattate con con superficialità perché poi tutto l'aspetto normativo passa attraverso molto troppo spesso delle autocertificazioni che vengono compilate in maniera diciamo per abitudine che diventano consuetudine per cui è tutto sì è tutto ok e si procede ad autocertificare che nel mio luogo di lavoro va tutto bene quando così non è i controlli sono scarsi questo va detto se non poi a procedere a fare tutti i controlli in tutte le aziende d'italia nel momento in cui accade un evento un evento come quello che ho appena menzionato per cui si vanno a controllare tutte le industrie tessili tutte le dovrebbero essere eventi periodici programmati proprio per per evitare che questo accada non si può intervenire sempre dopo ecco adesso si parla intanto il pensiero va sempre alle vittime della funivia piemontese purtroppo veramente una tragedia incredibile incredibile e adesso si parla in queste ore moltissimo del della riforma del codice degli appalti dei subappalti anche lì forse non è il caso di come dire di concedere troppo cioè sempre con attenzione alla sicurezza che la prima cosa si si parla di ritorno delle delle gare a ribasso per per facilitare un po i passaggi per facilitare per far riprendere un po l'economia però attenzione bisogna fare molta 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 attenzione perché la ripresa economica non può viaggiare sulla pelle di un abbassamento delle 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 della sostenibilità economica dei lavoratori perché una gara a ribasso significa che probabilmente verranno tagliate delle ore su quell'appalto e che quindi delle persone si troveranno con dei part time ad ore ridottissime significa passare sulla sulla pelle dei lavoratori significa che probabilmente tante accortezze sulla sicurezza ci saranno ma forse saranno solo sulla carta perché poi monitorare controllare verificare tutto questo avrebbe dei costi io ho paura sempre delle gare a ribasso perché se mi devi garantire una una uguale qualità del servizio una uguale performance una uguale con con meno soldi insomma è una cosa è abbastanza pericolosa io volevo visto che ci siamo e stiamo parlando della sicurezza volevo un attimo soffermarmi su quella che è una vertenza nazionale che cgl cis le will unitariamente stanno portando avanti proprio in virtù delle delle stragi che stanno accadendo nei luoghi di lavoro e che si chiama proprio fermiamo la strage nei luoghi di lavoro a pescara ci sarà una manifestazione unitaria il venerdì 28 maggio quindi venerdì prossimo alle ore 10 presso l'assessorato della sanità della regione abruzzo che si trova in via conte di ruvo 74 a pescara e ci sarà proprio un presidio organizzato dalle segreterie regionali di cgl cis le will che è proprio a sostegno della vertenza nazionale fermiamo la strage nei nei luoghi di lavoro forse sarebbe il caso anche insomma che invece di investire in cose a volte inutili lo stato investisse sulla sicurezza nei luoghi di lavoro adesso avremo anche pioggia di fondi europei forse questa è una delle priorità in un piano che si chiama di resilienza abbiamo davanti un'opportunità straordinaria io io credo molto nella provvidenza per cui alla grandissima tragedia della pandemia che si è accanita diciamo a livello mondiale si è data una risposta unitaria a livello europeo ma anche a livello mondiale un supporto un sostegno alla ripresa è l'opportunità di mettere a posto tante cose che comunque non andavano è il momento di fare un po il punto della situazione cercare di di salvaguardare quelle che sono le cose che non andavano e che hanno portato a ad avere i problemi che c'erano anche prima della pandemia che ci siano ripresa è un rilancio a partire da da una situazione di svantaggio potremmo davvero rinascere e allora davvero grazie di cuore a macchina carletti della fis a scattacisl abruzzo volise grazie a voi alla prossima alla prossima grazie grazie a tutti